Di cosa ti serve? Armi Dade te armi Una volta l'ho visto uccidere tre uomini Con una matita Un'altra volta l'ho visto uccidere tre uomini Una volta l'ho visto uccidere tre uomini Un'altra volta l'ho visto uccidere tre uomini Un'altra volta l'ho visto uccidere tre uomini Un'altra volta l'ho visto 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 uomini Sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.